gentili telespettatori buona giornata sul caso balocchi ferragni spuntano fuori anche delle email abbastanza particolari che circolavano in azienda dove si diceva sostanzialmente caspiterina sembra quasi che le vendite di sto pandoro servano esclusivamente per pagare il cachet esorbitante della ferragni attenzione vorrei spezzare un pandoro in favore della ferragni lei lei ha un un giro d'affari una visibilità e ci sono delle aziende che stabiliscono che stabiliscono cosa costa una pubblicità di un personaggio pubblico come la ferragni in base alla sua popolarità e in base alla sua forza di poter proporre e influenzare le persone quindi una pubblicità una campagna pubblicità pubblicitaria con un pandoro con sponsorizzato dalla ferragni ha un costo un costo costo che lei e la sua azienda dice volete fare una pubblicità con me questo è il listino il costo della mia partecipazione dell'accordo commerciale poi balocco può dire mi sembra troppo alto oppure il il tornaconto poi supera l'ingaggio quindi quindi non è che non è che la ferragni ha obbligato l'azienda con il suo cachet ha distrutto l'azienda poverina balocco ha dovuto pagare non ha dovuto pagare niente queste sono libere scelte commerciali libere scelte commerciali vi faccio un esempio sciocco che non è tanto sciocco questo canale teleitalia per il numero di visualizzazioni che ha per il per il numero di iscritti che ha un post pubblicitario nella community sapete qual è la community del canale no dove io metto i sondaggi un post lì pubblicitario per un canale di questo tipo costa all'incirca 20 25 mila euro se io non è mai non mi è mai successo ma se un'azienda volesse fare della pubblicità sul mio canale nella community per questo tipo di canale con le interazioni che ha costerebbe 20 25 mila euro immaginatevi che questa questa ragazza signora ha 20 milioni di iscritti non 260 mila col mio canale 25 mila euro c'è 20 milioni di iscritti capite che i prezzi delle pubblicità sono decisamente diversi queste sono le leggi del commercio e nessuno ti obbliga a fare la pubblicità comunque nel all'interno dell'azienda c'erano queste email come dire caspita tutte le vendite di sto pandoro servono solo per pagare il cachet ma quello è un problema aziendale il direttore vendite il direttore acquisti la direzione generale di questa azienda avrà fatto le sue scelte giuste sbagliate non lo so avrà fatto le sue scelte e avranno ipotizzato un investimento facendo la pubblicità con la ferragni che doveva poi avere un tornaconto poi che il tornaconto non ci sia stato io questo che ne so però non si può colpevolizzare questa ragazza perché qui si parla più che altro di invidia di rancore di odio verso chi come la ferragni è riuscita nella vita a fare quello che ha fatto ecco poi scopriamo che l'antitrust da una una multa di un milione di euro alla ferragni e 400 mila euro alla balocco per pratiche commerciali scorrette poi il 20 per cento dei pandori questi sono rimasti invenduti quindi uno su cinque non si è potuto vendere anche perché il prezzo era molto alto costava 9 euro a fronte di altri pandoro che costano di media 3 euro e 70 ma il prezzo alto faceva indurre il compratore a pensare a non costa 3 70 costa 9 quindi la differenza tra 3 70 di media e 9 quello sarà l'importo che andrà donato quindi il prezzo è molto alto strapago il pandoro della ferragni che poi non è che ha un gusto differente è lo stesso pandoro che ha solo la confezione coscritto facciamo beneficenza queste robe qua alla fine poi non dipendeva da quanti pandoro si vendevano l'azienda aveva già versato 50 mila euro in beneficenza all'ospedale quindi l'antitrust dice avete indotto le persone a pensare a pensare che più pandori si vendevano più soldi andavano in dotazione invece non è non è vero bene il pandoro solidale il tema della dotazione della pubblicità ingannevole nel testo pubblicato dall'antitrust si parla di spese per adv quindi destinate alla ferragni fino a un milione di euro un conto salatissimo investimenti legati la filantropia che però non hanno portato benefici attesi su 362.577 pandori griffati se ne sono venduti solo l'80 per cento il 20 per cento rimasto è stato distrutto pensate che che peccato comunque il punto è che in azienda ci sono queste email dove personale si commentano all'interno che alla fine questi soldi di questo cachet così alto non avevano poi un tornaconto ciao a tutti aggiungo per esempio c'era scritto per me ok ma massima attenzione all'attività benefica che ci espone a pubblicità ingannevole correlate alle vendite occorre spiegarglielo bene meglio forse per telefono questa una delle email inviata dal manager di balocco il 18 novembre al team di ferragni in merito alla predisposizione di alcuni post per noi è molto importante sottolineare il sostegno al progetto benefico senza menzionare le vendite in quanto si tratta di una donazione che non è legata all'andamento del prodotto sul mercato ma nel copioso numero di email risulta facoltà di tbs crew quella della ferragni di decidere in ultima istanza i contenuti da veicolare il team di ferragni insiste buongiorno rivisto il comunicato in qualche punto te lo rimando in allegato lo storico brand piemontese riconosciuto ed apprezzato eccetera eccetera presenta una novità esclusiva il pandoro chiara ferragni le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall'ospedale invece quindi scrivendo le cui vendite serviranno a finanziare non è vero a finanziare le cui vendite non servono a finanziare perché 50 mila euro la balocco le aveva già pagate in beneficenza quindi le vendite non servivano a finanziare a finanziare non è che più si vendeva più si finanziava più si vendeva più guadagnava l'azienda e la ferragni capito dov'è il punto arrivederci a tutti e grazie